Questo è il mese dedicato a Dio Padre. 13 agosto I messaggeri dell'amore Geremia Introduzione Nella vita e nella missione del profeta Geremia si impersona la tragedia dell'amore divino, offerto e non accettato. Il profeta annuncia l'amore di Dio per il suo popolo, con accenti appassionati, con paragoni presi dall'amore nuziale o di fidanzamento, come tra un uomo e una donna. Dio ama anche chi gli è stato infedele, chi l'ha tradito, non perché Eli sia debole o bisognoso, ma perché è superiore alla miseria della persona amata. Per rendere più convincente il suo annunzio, il profeta non teme l'impopolarità tra i suoi e la persecuzione dei capi politici, pur di annunciare loro la verità che potrebbe salvarli. Non evita minimamente i pericoli gravi che lo minacciano. Viene arrestato, gettato in prigione in una fossa fangosa, e poi liberato, segue la sorte degli scampati alla distruzione di Gerusalemme, li accompagna in Egitto, lui che ne li aveva sconsigliati, ma che non si sentiva il cuore di abbandonarli. E in Egitto avviene l'epilogo della tragedia. Morì, forse ucciso dai suoi assassate. Tragedia dell'amore non amato, tragedia di un grande spirito, trasparente figura del Cristo sofferente, Agnelo Mansueto condotto al sacrificio. Geremia si sentiva affascinato, anzi, Eli dice seduto dall'amore di Dio e del suo popolo. Aveva avuto l'esperienza mistica di quanto poi Eli scrisse. Di un amore eterno io ti ho amato, per questo ti ho conservato il mio favore. Metterò la mia legge in loro e la scriverò nei loro cori. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Meditazione biblica Allora il Signore rivolse la parola a Geremia e gli disse Ecco, io sono il Signore di tutti i mortali. Che cosa ci può essere di impossibile per me? Ecco, io li radunerò da tutti i paesi nei quali li avrò dispersi. Li ricondurrò in questo luogo per abitarvi con tutta sicurezza. Io li avrò per mio popolo ed essi mi avranno per loro Dio. Anzi, darò loro un altro cuore e un modo di vivere sì che mi temano in ogni tempo per il bene loro e dei loro figli dopo di loro. Farò con essi un pato eterno e non ceserò di beneficarli. Metterò nei loro cuori il mio timore affinché non si distacchino da me. Troverò la mia gioia nel fare loro del bene e li stabilirò saldamente in questa terra con tutto il mio cuore e con tutta l'anima mia. Conclusione Per ogni uomo del passato del presente e del futuro tutta la vita si annoda facilmente o tragicamente qui in questo punto nell'amore. L'amore dono generoso di Dio come bellezza vita felicità stessa di Dio da oggi e per sempre. L'amore verso gli altri come comunione fraterna di vita dei beni di ideali di sforzi per un medesimo comune destino avvicinarsi e aprirsi sempre di più all'amore eterno di Dio. La fedeltà a questo dono e a questo impegno d'amore non è facile. Viene spesso messo a dura prova ogni giorno dalle mille traversie che ci preoccupano ci esasperano ci nervosiscono nella ricerca ansiosa e individualistica della soluzione dei nostri problemi della casa del lavoro della salute della libertà della giustizia dell'indipendenza dagli altri dello stesso amore per una persona da accettare o da respingere. Eppure tutto potrebbe essere non dico più facile ma più semplice e chiaro se fossimo dominati da due sole certezze. Prima Dio mi ama di un amore eterno e prova gioia a farmi del bene e seconda tutto si può risolvere se amo gli altri e se amo con gli altri. Preghiamo Rivolgiamo fiduciosi la preghiera a Dio nostro Padre Dottore Doni Bene perché susciti in noi un grande amore nella riconoscenza e nella gioia. Preghiamo insieme e diciamo Ti ringrazio o Signore per tutti i beni che hai effuso nel mondo che ci nutrino e ci sviluppano. Ti ringrazio o Signore per tutte le meravigliose bellezze della natura che ci incantano e ci alietano Ti ringrazio o Signore per la vita che ci hai donato per i giorni che ci concedi per l'amore l'amicizia e la compagnia che ci fai godere nella nostra casa e nel mondo Ti ringrazio o Signore per le piante e gli animali che continui a creare per noi per il sole la luna e le stele per le sorgenti e le pianture per le montagne e i mari che conservi e rinnovi per noi Ti ringrazio o Signore per l'intelligenza i sensi e il cuore che ci hai dato per comprendere godere amare e rispettare la Tua creazione e Te somo bene Ti ringrazio o Signore per tutte le nostre intenzioni si esprimono le intenzioni Ti ringraziamo o Signore Preghiera di conclusione Dio nostro Padre che a noi e a ogni generazione di uomini fai trovare questa eredità ricca e meravigliosa del Tuo creato mentre accogliamo ogni bene come segno del Tuo amore Ti ringraziamo con tutta l'anima e Ti preghiamo di formarci un cuore pronto e generoso verso i fratelli più bisognosi Te lo chiediamo per il cuore di Cristo Tuo Figlio Amen